allora diciamo che si può essere si può fare teologia si può studiare teologia ma farla attivamente è un servizio che si fa alla fede e quindi non credo che funzioni tanto un ateo che fa teologia un ateo che la studia sì perché io posso anche studiare la teologia degli antichi egizi non ci credo però scopro tante cose la studio magari mi appassiono come conoscenza ma anche come conosce anche come progresso spirituale perché non so conoscere la gli antichi egizi comunque spande il mio mondo mi rende anche spiritualmente più attento più sensibile a scogliere sfumature in altre civiltà cioè la conoscenza ci trasforma non è soltanto informazione che beviamo quindi è un ateo che studia teologia un po che fargli bene però fare teologia fare teologia e mettere al servizio della comunicazione dell'esperienza della fede l'articolazione di un'esperienza che fai tu stesso capito cioè fare fare teologia senza credere come fare sesso senza amore è questo cioè c'è un distacco tra la percezione intellettuale la mia partecipazione e adesione esistenziale e quello rende la teologia un po più scadente se non un pochino avvelenata insomma quindi a volte insomma sapete io ho una certa presenza su internet se loro mi attaccano che sono modernista io non sono in realtà non sono niente cioè posso apparire tale rispetto a un tradizionalista fondamentalista certamente perché comunque cioè già io avete capito non è che do significato letterale a tutte le cose che la bibbia racconta poi dico anche un'altra cosa la bibbia è piena di contraddizioni è evidente che piena di contraddizioni però queste contraddizioni servono perché sono composte non in una non dobbiamo farle funzionare insieme logicamente ma fare funzionare insieme simbolicamente perché la chiave che apre tutte le prospettive e la resurrezione di cristo quindi allora posso capire la teologia no del coelet e la teologia del libro della sapiezza e tenerli insieme perché ciascuna qualcosa di fondamentale da dirmi su chi sono io e su chi è dio perché dio ha tanti volti dio confonde quelli che credono di di comprenderlo lo dice anche ha confuso i superbi nei pensieri loro cuore tanto la madonna che lo dice nel vangelo di luca quindi dobbiamo cioè dobbiamo quando faccio studiamo teologia comunque ci accostiamo a questi tesori anche la stessa storia della chiesa diciamo e giudichiamo no ma guarda questi litigavano perché noi che stiamo a fare cioè noi non dobbiamo sentirci superiori dobbiamo essere molto umili credo che l'atteggiamento giusto sia sia questo qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti